Uomini e donne, trono classico anticipazioni. Registrazione rimandata. Chi saranno i tronisti? Manca davvero poco all'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Per questa ragione sembra esserci tanta curiosità circa i nuovi tronisti che siederanno sul trono più ambito d'Italia per la stagione 2018-2019. Purtroppo al momento non sembrano esserci notizie ufficiali sui fortunati che aglieteranno i pomeriggi di tanti italiani. Più che altro, da qualche settimana si stanno rincorrendo dei rumors sempre più insistenti, ma si tratta di notizie che non sono state ancora confermate. Dunque bisognerà attendere qualche settimana per sapere effettivamente chi saranno i nuovi tronisti. Quest'anno, per i tanti fedelissimi sostenitori del programma condotto da Maria De Filippi, sembra esserci una novità. In genere la nuova stagione di Uomini e Donne esordiva a fine settembre, mentre per quest'anno l'inizio sembra sia stato anticipato e la prima puntata dovrebbe andare in onda già lunedì 10 settembre, ovviamente sempre alle 14.45 e sempre sulla stessa rete, ovvero Canale 5. Anticipazioni Uomini e Donne 2018-2019, rimandata la prima puntata. In genere si sa, la prima puntata del Trono Classico viene registrata a fine agosto e anche per quest'anno sembra che fosse stata fissata per il 29 agosto. La prima puntata del Trono Over, invece, sarebbe dovuta venire giovedì 30 agosto. Tuttavia entrambe le registrazioni sono state rimandate, anche se solo di qualche giorno. Infatti la registrazione con annessa presentazione dei nuovi tronisti avverrà venerdì 31 agosto a partire dalle ore 16. Notizie incerte ancora sulla registrazione del Trono Over. Non ci sarà il Trono Gay, qual è il motivo? Quest'anno dopo il grande successo ottenuto la scorsa stagione non tornerà il Trono Gay, ma quali sono i motivi? Sembra che oltre al fatto di non aver trovato dei validi successori a Claudio Sona e Mario Serpa, Mario abbia deciso di concentrarsi più che altro su entrambi i troni, soprattutto su quello over, che da alcuni anni sembra aver ottenuto maggior successo. Trono Classico Anticipazioni, i probabili tronisti Ritornando ai rumors, in tanti pare abbiano scommesso sulla partecipazione di un ex protagonista di Tentation Island 2018. Si tratterebbe di Lara Rosi Zorzetto, l'ex fidanzata che dopo la fine del programma ha ottenuto un successo incredibile, soprattutto sui social, dove in tanti hanno chiesto che la ragazza possa sedersi sul trono. Nei giorni scorsi tra l'altro Lara sarebbe stata avvistata a Roma in compagnia di Raffaella Mennoia, che come tutti sappiamo è l'autrice non soltanto di Tentation Island, ma anche del trono classico. Lara è di certo una ragazza come tante, senza grilli per la testa, molto umile e soprattutto molto simpatica, tutte caratteristiche che hanno colpito il pubblico italiano, anche quello femminile, che adesso la acclama a gran voce come prossima tronista. In tanti scommettono anche su Lorenzo Riccardi, l'ex corteggiatore di Sara Affifella, mentre tanti altri sperano che a sedere su quel trono ci sia Luigi Mastrogliani. E voi, sareste felici di vedere i due ex corteggiatori della tronista napoletana seduti su quella sedia rossa? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.